La ginocchiata alla Amine Xtreme, la ginocchiata Xtreme, come parte? Fammela vedere La prima è la ginocchiata sulla coscia, è una delle più sottovalutate, una delle tecniche più sottovalutate che io abbia mai visto Nessuno la fa, nessuno la pratica, anzi addirittura una volta l'ho utilizzata in Francia Il campione italiano attuale in carica, Alessio Zeroni dei 75 kg Waco Pro, è venuto a me e mi fa Oh figa con la mossa lì, la metterò nel mio arsenale Guardi la Thai, è importante coprirsi perché devi per forza accorciare la distanza Ti copri, tiri sulle mani, vai verso il tuo avversario e da lì alzi il ginocchio ed entri dentro Alzi, esatto, entri dentro e glielo strisci, proprio devi strisciaglielo così Ripapigliettiri il muscolo e i nervi Cioè questo proprio per fare male, proprio devi far male, sì bravo, sì